Non vorrei darle un dispiacere ulteriore dopo la partita di ieri sera facendo Napoli parte integrante dell'Italia ma non perché mi piace come dire dire che uno arriva primo non ci appartiene ma sto leggendo tutti i titoli e per la prima volta in Italia vorrei ricordare che tre anni fa fu il comune di Napoli a dirimere una situazione tra l'altro molto delicata la vicenda di Ruben bimbonato da due donne italiane una napoletana una sarda a Barcellona che non riuscivano a rientrare col bambino in Italia nessuno aveva la carta identità lo facevamo noi come comune mi costò anche un procedimento civile una denuncia penale abbiamo superato tutti gli ostacoli Ruben già da molto molto tempo quindi da ben tre anni che esiste un precedente in Italia siccome ecco non sarei intervenuto se non avessi visto tutti i siti italiani dire che per la prima volta ne forse per la prima volta il nord Italia ma per la prima volta in Italia l'ha fatto Napoli e siamo siamo contenti di questo